Entra nel vivo il protocollo di assistenza tra ASDA di Latina ed Emergency in merito all'accoglienza migranti. A darne comunicazione è la stessa azienda sanitaria, che sottolinea anche i numeri degli stanieri presenti sul territorio provinciale. Un territorio colopontino, che vede l'8,4% di stanieri residenti, in particolare rumeni ed indiani, concentrati maggiormente nell'area di Latina ed Aprilia Cisterna. Numeri questi che non tengono conto di quegli stanieri irregolari o comunque non iscritti in anagrafe, una quota in continua crescita anche in relazione alla presenza di richiedenti asilo. La presenza di queste persone pone, dal punto di vista sanitario, diversi problemi, in primis quello di affrontare malattie diffuse nei paesi di provenienza, ma ormai scomparse in Italia e che potrebbero tornare. Ma non solo questo. Ci sono le barriere linguistiche e quelle culturali, con persone che mai nella loro vita sono state seguite da medici. Le misure adottate finora però non sono più sufficienti e c'è bisogno di altro. In questo quadro si inserisce il rapporto con Emergency, che nel corso di questo 2017 consentirà un approccio diverso e sperimentale al problema, coinvolgendo gli stranieri nei luoghi in cui vivono, offrendo servizi medici, infermieristici e di mediazione culturale. Gli stranieri potranno quindi recarsi nell'ambulatorio mobile Emergency e poi, dopo una prima visita, ricevere tutte le informazioni su dove proseguire il loro percorso sanitario. L'ambulatorio sarà presente soprattutto nelle zone a ridosso dei campi, dove sono tanti gli stranieri lontani dai centri abitati che lavorano nelle aziende agricole. Fondi, Borgo Ermada e Bella Farnia verranno visitate due volte a settimana dall'ambulatorio mobile, una volta invece stazionerà a Latina.